Oggi andiamo a conoscere, a scoprire il libro di Neville Goddard, La tua fede e la tua fortuna. E quindi andiamo a vedere un piccolo capitolo intitolato Dio 1 e Trino. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Genesi 1, 26. Avendo scoperto che Dio è la nostra consapevolezza di essere e che questa realtà incondizionata, immutabile, io sono e l'unico creatore, vediamo perché la Bibbia riporta una Trinità come il creatore del mondo. Nella Genesi 1, 26 si legge, e Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine. Le chiese si riferiscono a questo plurale di Dio come a Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Cosa si intende con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo? Non hanno mai tentato di spiegarlo perché sono al buio riguardo a questo mistero. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre aspetti o condizioni della consapevolezza di essere incondizionata, chiamata Dio. La coscienza di essere precede la coscienza di essere qualcosa. Questa consapevolezza incondizionata che ha preceduto tutti gli stati di coscienza è Dio, e cioè io sono. I tre aspetti condizionati o divisioni di essa possono essere meglio spiegati in questo modo. L'atteggiamento ricettivo della mente è quell'aspetto che riceve le impressioni e pertanto può essere paragonato a un utero o madre. Ciò che crea l'impressione è il maschio o l'aspetto imprimente ed è quindi noto come il padre. Nel tempo l'impressione diventa un'espressione che è sempre a un'immagine e somiglianza dell'impressione. Quindi questo aspetto oggettificato si dice essere il figlio che porta testimonianza del padre-madre. La comprensione di questo mistero della trinità permette a colui che lo capisce di trasformare completamente il suo mondo e di modellarlo a suo piacimento. Allora questo passaggio è bellissimo, è molto ben spiegato. Praticamente cosa ci dice? Che tutte le impressioni che vengono impresse, ok, pressate, impresse in questa coscienza prende forma con un oggetto essi oggettiva e quindi è assomiglianza di ciò che è stato impresso. E' come se fosse uno stampo, quando tu hai uno stampo in mente e ci metti dentro, che ne so io, la materia, esce fuori quello che era lo stampo. Quindi uguale a somiglianza dell'impressione. Questo aspetto oggettificato si dice essere il figlio che naturalmente porta testimonianza del padre-madre. La comprensione è molto importante di questo perché, come dice qui, ci permette di capire e di trasformare completamente il nostro mondo. Quando tu hai nella tua mente una concezione di te e vedi te stesso negli occhi della tua mente e concepisci te stesso in un certo modo, io sono, cioè la consapevolezza pura che non ha nessun attaccamento su, si imprime di questa impressione e poi quest'impressione, quest'impressione si esprime come che cosa? Come manifestazione di ciò che noi vogliamo, come il figlio. Ecco, qui ci dice, ecco un'applicazione pratica di questo mistero. Siediti tranquillamente e decidi che cosa ti piacerebbe di più esprimere o possedere. E questa è una formula di manifestazione vera e propria, giusto? Ci sta dicendo. Siediti tranquillamente e decidi per prima cosa cosa ti piacerebbe di più esprimere o possedere. Dopo aver deciso, chiudi gli occhi e porta la tua attenzione completamente lontano da tutto ciò che nega la realizzazione della cosa desiderata. Quindi assumi un atteggiamento di mente ricettivo e gioca il gioco di suppore, immaginando come ti sentiresti se realizzassi adesso il tuo desiderio. Inizia ad ascoltare come se lo spazio ti stesse parlando e ti dicesse che tu sei adesso quello che desideri essere. Questo atteggiamento ricettivo è lo stato di coscienza che devi assumere prima che un'impressione possa essere creata. Quando questo stato mentale, maleabile, è suggestivo e raggiunto, allora cominci a imprimere su di te il fatto che sei quello che desideravi essere, affermando e sentendo che esprimi e possiedi ora quello che avevi deciso di essere e avere. Continua in questo atteggiamento fino a che l'impressione è fatta. Mentre contempli di essere e possedere ciò che avevi deciso di essere e di avere, noterai che a ogni ispirazione un brivido di gioia corre lungo il tuo intero essere. Questa emozione aumenta di intensità mentre provi sempre più la gioia di essere ciò che stai affermando di essere. Poi, in una profonda ispirazione finale, tutto il tuo stesso essere esploderà con la gioia della realizzazione e saprai dalle tue sensazioni che sei stato fecondato da Dio, il Padre. Non appena l'impressione è fatta, apri gli occhi e torna al mondo che solo pochi istanti prima avevi chiuso fuori. Allora, cosa ci sta dicendo qui? Che non è che ci vuole tanto. Noi manifestiamo in ogni momento, quindi ci vogliono pochi istanti. Basta che noi assumiamo la sensazione che è fatta, che ce l'hai già. affermando e sentendo questa emozione, sentendo la gioia che sarebbe tua se quella cosa sarebbe già ora parte della tua esperienza in forma. E quindi, in questo tuo atteggiamento ricettivo, mentre contemplavi di essere quello che desideravi essere, stavi effettivamente compiendo l'atto spirituale della generazione. Pertanto ora, nel tuo ritorno da questa meditazione silenziosa, sei un essere gravido che porta a un bambino. Ho l'impressione, un bambino concepito immacolatamente senza l'aiuto dell'uomo. Il dubbio è l'unica forza in grado di turbare il seme o l'impressione per evitare un aborto spontaneo di un bambino così meraviglioso. Attraversa nel segreto il necessario intervallo di tempo che ci vorrà dall'impressione per diventare un'espressione. Non raccontare a nessuno della tua storia d'amore spirituale. Chiudi il tuo segreto dentro di te nella gioia fiducioso e felice che un giorno porterai il figlio del tuo amante, esprimendo e possedendo la natura della tua impressione. Allora conoscerai il mistero. E Dio disse, facciamo l'uomo, la nostra immagine. Saprai che la pluralità di Dio a cui ci si riferisce sono i tre aspetti della tua coscienza e che tu sei la Trinità, riunita in un conclave spirituale per modellare un mondo a immagine e somiglianza di ciò che tu sei consapevole di essere. Ora andiamo a vedere un altro piccolo capitolo che si intitola preghiera e iniziamo con una citazione, anzi due, una di Matteo 6.6 e una di Marco 11.24 che è quella la più famosa in assoluto. Iniziamo con quella di Matteo 6.6 che dice Quando preghi entra nella tua stanza e dopo aver serato la porta prega il Padre tuo che è in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente, Matteo 6.6 e la più famosa qualunque cosa voi domanderete pregando, credete di averla ricevuta e l'avrete. La preghiera è l'espressione più meravigliosa che l'uomo possa avere. A differenza dei mormorii quotidiani della maggioranza degli uomini di tutto il mondo che con le loro vane ripetizioni sperando di ottenere l'ascolto di Dio la preghiera è l'estasi di un matrimonio spirituale che si svolge nella profonda, silenziosa, quiete della coscienza. Nel suo vero senso la preghiera è la cerimonia annunziale di Dio proprio come una ragazza il giorno delle nozze abbandona il nome della sua famiglia e assume il nome di suo marito. Allo stesso modo, colui che prega deve abbandonare il suo attuale nome o natura e assumere la natura di quello per cui egli prega. I vangeli hanno chiaramente indicato all'uomo come eseguire questa cerimonia nel modo seguente e dice così Quando preghi vai dentro in segreto e chiudi la porta e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Andare dentro equivale a entrare nella camera annunziale così come a nessuno tranne sposa e sposo è permesso di entrare in una camera così santa come la camera annunziale la notte della celebrazione delle nozze Allo stesso modo, nessuno tranne colui che prega è la cosa per cui egli prega può entrare nell'ora santa della preghiera. Come la sposa e lo sposo entrando nella camera annunziale Chiudono bene la porta al mondo esterno Allo stesso modo, anche colui che entra nell'ora santa della preghiera deve chiudere la porta dei sensi e sbattere completamente fuori il mondo intorno a lui. Ciò si ottiene distogliendo completamente l'attenzione da qualsiasi cosa che non sia ciò di cui sei innamorato cioè la cosa desiderata Allora vi consiglio di prendere nota perché questa è veramente un'altra un'altra tecnica di manifestazione di manifestare, per manifestare Comunque di queste cose ve ne parlo sempre ma è solo un riconoscere che è così Quindi la seconda fase di questa cerimonia spirituale è definita con queste parole Quando preghi, credi di aver ricevuto e riceverai Quando contempli con gioia di essere e possedere quello che desideri essere e avere hai compiuto quella seconda fase e stai pertanto seguendo spiritualmente gli atti del matrimonio e della procreazione Il tuo atteggiamento mentale durante la preghiera o la contemplazione può essere paragonato a una sposa o a un utero perché è quell'aspetto della mente che riceve le impressioni Ciò che contempli è lo sposo perché è il nome o la natura che assumi e pertanto è quello che lascia la sua fecondazione Quindi quando si assume il nome e la natura della fecondazione si muore alla virginità o natura attuale Assorto in contemplazione avendo assunto il nome e la natura della cosa contemplata il tuo intero essere è elettrizzato dalla gioia di essere quella cosa E sentite questo Questo brivido che attraversa tutto il tuo essere quando ti appropri della coscienza del tuo desiderio è la prova che tu sei sposato e fecondato Quando ritorni da questa meditazione silenziosa la porta è di nuovo aperta al mondo che ti è rilasciato dietro Ma questa volta ritorni come una sposa incinta entri nel mondo come un essere cambiato e anche se nessuno tranne te sa di questo idilio meraviglioso il tuo mondo in brevissimo tempo vedrai segni della tua gravidanza perché inizierai a esprimere ciò che nella tua ora di silenzio hai sentito di essere la madre del mondo o sposa del Signore è volutamente chiamato Maria o acqua perché l'acqua perde la sua identità e assume la natura di ciò con cui è mescolata allo stesso modo Maria cioè l'atteggiamento ricettivo della mente deve perdere la sua identità quando assume la natura della cosa desiderata solo quando uno è disposto a rinunciare alle sue limitazioni attuali e alla sua identità può diventare ciò che desidera essere la preghiera è la formula con la quale vengono realizzati questi divorzi e matrimoni se due sono d'accordo a toccare qualcosa questa sarà stabilità sulla terra e i due che sono d'accordo siete tu la sposa e la cosa desiderata lo sposo quando quest'accordo si realizza nascerà un figlio che porta testimonianza di questa unione tu inizi a esprimere a possedere ciò che sei consapevole di essere pregare quindi è riconoscere che sei quello che desideri essere piuttosto che implorare Dio per ciò che desideri milioni di preghiere sono quotidianamente senza risposta perché l'uomo prega un Dio che non esiste poiché la coscienza è Dio bisogna ricercare la cosa desiderata nella coscienza assumendo la consapevolezza della qualità desiderata quindi bisogna assumere sentire la qualità come mi sentirei se quel posto di lavoro fosse mio come mi sentirei se fossi proprietario di quella casa come mi sentirei se vivessi in quella casa come sarebbe la mia vita se avessi uno stipendio di questa natura piuttosto di un'altra è molto molto importante capire questo solo facendo questo le tue preghiere saranno esaudite pregare per la ricchezza essendo consapevoli di essere poveri significa essere compensati con quello che si è consapevole di essere cioè la povertà le preghiere per essere esaudite devono essere affermate e appropriate assumi la consapevolezza affermativa della cosa desiderata ecco quanto è importante questa questa tecnica quindi l'atteggiamento mentale di ciò che desideri e contempli ciò che vuoi portare nella forma assumendo la natura assumendo il nome e la natura di di quello che desideri e questo si oggettiverà nel tuo mondo nel nostro mondo solo quando uno è disposto a rinunciare alle sue limitazioni attuali e alla sua identità cioè a quello che lui è consapevole di essere se come dice qui sei consapevole di essere povero e preghi per la ricchezza quello che attiri nella tua vita nella tua esperienza non sarà altro che altra povertà perché perché tu esprimi sempre ciò che imprimi noi esprimiamo sempre ciò che imprimi e ciò che imprimi ciò che credi ciò che sei cosciente ciò che sei consapevole di essere è che tu sei povero e stai chiedendo ricchezza ma se tu invece imprimi dentro di te e sai di essere ricco e sai che è così perché tutto ti appartiene allora esprimerai quello stato che hai assunto ecco perché bisogna chiudere fuori i cinque sensi che ti dicono no non è vero guarda che tu non hai visto tu non lo sai o tu non lo sai cosa può succedere o tu non lo sai la mia vita o tu non lo sai sì che lo so tutti noi abbiamo passato un momento terribile nella nostra vita o molti momenti terribili ma questo non è di quello di cui stiamo parlando ora ok quindi pregare per la ricchezza essendo consapevole di essere poveri significa essere ricompensati con quello che si è consapevole di essere sempre quello che hai dentro lo vedi fuori il mondo esterno è uno specchio delle nostre convinzioni allora io mi fermerei qui e domani partiamo da qui grazie mille ciao a tutti grazie a tutti